Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile, cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere, non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni che ci hanno fatto fare gli errori, non sarebbe neanche naturale. Cambiare opinione non è difficile, cambiare partito è molto facile, cambiare il mondo è quasi impossibile. Si può cambiare solo se stessi, sembra poco ma se ci riuscissi, faresti la rivoluzione. Cambiare Vivere bene o cercare di vivere, fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amarsela da questa situazione. Cambiare Grazie a tutti Grazie a tutti